Qua devo cos'è tutto... Tanto qua tolgo gli alberi... Oh, io sto togliendo gli alberi... Ok, se me sentite fate un fischio... Cioè fammi un fischio a te, Wit... A posto... Devo spostare un attimo il microfono perché mi è arrivato da mangiare... Allora io intanto adesso mentre gioco... Mangio... Cosa? A posto... Una cotoletta e un po' di unsalata... Oh fammi... Dai andiamo a guardare... Cosa? Ah... Ah ok, tanto non servivano più... Oh, mi sono bagazzato la porta... Vai, me lancio nel... Namu... Pure io... Intanto... Mi mangio un po'... Ok... Dove andiamo? Eh? Dove andiamo? Dove sei? Qua... Aperta... Emo? Emo? Fammi caricare... Cosa hai fatto? Non ti vedevo... Eccoti là... Eh... Decidi... Decidi un luogo? Cioè decidi una direzione? Sud! Sud? Dov'è? Qua... Namu c'è n'è a sud... Guarda da sti chunk che non si caricano... Eh, è la cosa migliore... Perché così possiamo vedere sottoterra a volte... Sì, ma vedo tutti gli alberi... Eh, io tipo... Ah, ok... Mi ha spawnato adesso il chunk... Genura... Criticamii... Dobbiamo trovare... L'entrata per un dungeon... Cos'è? Cos'è? Cosa? Sta roba... Cos'è? Perché c'è un albero storto? Ci sono e griffer... Me ne armono male... Eh sì, quello della jungla... Ho trovato un dungeon... Un dungeon? Sì, pure io... Aspetta, dov'è l'entrata? Qua... Dov'è? Io n'ho visto... Eh via, via... Eh, porca puttana... Mi sei bloccato... Beh, per a te? Sì, allora è un problema adesso... Sì, per a me... Ok, no, sei ripreso... Ma io sto ancora bloccato... Ok, sei ripreso... Dove sei? Eh, nel dungeon... Ah, ecco perché non mi faceva camminare... Perché è pieno di semi? San cazzo, via... Zero proprio? No, zero... Se poi vedi tesi... Oh, che falle... Ma sì, dai... Spacca tutto per divertimento... Scusa... Ti ho malaggato... Eh, scusa, sono stato io con la gravity... Ho beccato dentro... Un chunk non caricato... Un chunk non caricato... Nooo... Un chunk non caricato... Non c'è il dungeon... Dove sei? Eh, sto andando sempre verso sud... No, non è vero... Stavo sbagliando... Di qua il sud... Cos'è? A me non carica il mondo... Eh, anche a me... Per cui, mando... Dove sei te? Che palle... Ma perché adesso sto allaggando? Eh, la tua letta è sempre stata buggata... Continua ad esserlo... Eccola qua... Ok, mi sta a carica... DANGYON! Una casetta! Ah, ignora... Le fanno schifo... Chi è dentro? Ma comunque... Chi sei tu? Non ci carica il mondo... Perché, essendo che il jetpack vola troppo veloce... Non dà il tempo al mondo di generarci... Un castello! Un castello! Un castello! Ma dove sei? A sud! Mi ha detto... Andiamo a sud! E io sto andando a sud! E io sto andando a sud! Tipo! Tipi! Non mi carica il mondo! Wither boy... Da me! Qua! C'è un castello qui dietro! Però non c'è dentro niente! Laggando! Laggando! Stai laggando! Laggando! Non mi carica il mondo, aiuto! Stai laggando? Sì! Solo qua! Sto facendo la macarena! Sto facendo la macarena! Come la macarena? No! E' buggata! Andamocene! Eh ma ci serve quel cavolo di dungeon! Dove sei? Eh... A sud! Io ti vedo a scatti! Per ogni tanto sparisci! Perché vado avanti! Non mi carico al mondo! Ma si che lo carica! Cosa si vuol dire? Andiamo al jetpack! Ho trovato qualcosa di stranissimo! Siiiiiiiiiii! Dungeon! Cosa? I dungeon quello che serviva a noi! Dungeon! Si si quello che serviva a noi! Ma io avevo visto uno questo! Ma che è sto materiale? Non lo so ma è duro! Che palle non riesco a... Molto duro! Oh! Adesso ho fatto tutti in modo del sistema! Via! Attento! No, no, gialli uomini mucca stupidi Oh oh Non prendere la mia roba, fermo Ho fatto una cavolata Cosa hai fatto? Eh, sai che plasma cannon si surriscalda e ti fa pende fuoco Esattamente, io l'ho usato troppo di continuo Non mi prendere Oh mio dio Che è sto d'angono strano Porca puttegna C'è un problema Cosa hai fatto? Non posso prendere l'armatura Perché è troppo calda, mi brucio subito E che ti riscaldala Eh, è la mano che non devo prendere, come faccio? La prendo io Levala! Levatela! È stupido Non morirò Eh, devo metterla per farla raffreddare Che c'è posso fa? Ok Vabbè, sì, cazzi, dai Eh, è caldissima la mano Non devo prenderla in mano La mano non devo prenderla in mano Faccio io No, fermo, fermo Oh, cazzo No La mia roba La mia roba È saltata tutta E non c'è più niente Questa non è niente Mi dai la mia roba? Questo neanche No, fermo L'uomo bucca È fortissimo Mi dai la mia roba? Ok, niente Non posso più usare la mia roba No, guarda che mi hai dato due mani Una era tua Adesso come facciamo? Ok, questa è la tua Perché questa è la mia che è calda Vedi? Allora Devo sistemarmi l'inventario Aspetta Ma questi sono tuoi Sti cose Anche questa No Sì, sono tuoi No Vabbè, li prendo io Io non ce li avevo Non ero uno miei Ah, l'hai preso dal boss Può essere dei tizi strani Eh, mi manca La Gino porta Cos'è? Torce Torce Eh, mi mancano Mi mancano I pantaloni Io non ho pantaloni Eh, mi sono esplosito L'avevo detto io No, ce l'ha L'avevo visti Ma ne trovi Ok, sì, sì Eh, si è raffreddato tutto Non ho dato i pantaloni Ah, no, so qua Ah, no Non li vedevo Aspetta, mi manca lo zaino Ok, c'ho tutto Eh, faccio un boccone E intanto Arrivo Ma Ma che ci sono dentro questo dungeon? Delle chest Contenuti Contenenti? Rubate le torce Ah Ah, ti abbiamo le torce Ah, già Levati Ancora non lo uso più il plasma cannon Ah, io uso soltanto pif No Uso la spada adesso Dai, che palle Non trovo la stanza con le cesse No L'uomo mucca La stanza con le cesse L'ho trovata Dov'è? Aia, 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 aia È potentissimo, aiuto Aia, 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 aia Eccolo! Non senti i versi. Allora, qui c'è un po' di roba dopo, guardo cos'è. Test! Qui c'è un po' di roba dopo, guardo cos'è. Eh, delle armature strane, ma non abbiamo trovato quello che serve a noi, quindi dobbiamo continuare. Niente, perché ci sono... A me mi larga tutto. Aspetta, aspetta, non andare, aspetta. Cosa fai? Che mi largava... Mi appoggio un attimo e mangio qualcosa. Aspetta. Ok, dove sei? Eh, guarda la minima. Ok, che cazzo! Cos'è? Boh, è roba inutile. Dai, ho bisogno di altre chest. È una specie di labirinto. È un labirinto. Ah. Sento le mucche. Ah, ah! Ho sentito il mio eco per quanto ho urlato. Ah! Ti giuro, ho sentito il mio eco da te per quanto ho urlato. Una spada! Sì, ma se mi aiuti! Cos'è? È un euro class e test plate. Ne ho otto. Ah! Aspetta! Ma è uno scheletro! Oh, sto a morire! Sto a morire! Sto a morire! Aiuto! Perché me li porti a me che muoio? Basta! Dove ho usato il plasma canon. Sto volando per sicurezza. Sì! Dove si scende? Cos'è? Eh, dove si scende per trovare l'altra stanza con le ceste. Eh dai! Non mi fa scende! Cos'è? Mi uccide! Mi uccide! Mi uccide! Cosa? Questi! Guardali là! Guardalo! Davanti a me! È un ragno che lancia slimeball, ti fa malissimo! Malissimo! Boom! Plasma canon. Dove sei? Ok, dobbiamo cercare la stanza. Non c'ho io, verde! So qua! Dobbiamo cercare la stanza con le ceste. Ho paura! Eh, non dillo a me! Cos'è? Ah, è sempre lo scarafaggio. Come sei? Ti ho perso! Eh, lo scarafaggio stupido eh! Oh, ci sono i nomi che si vedono dalle pareti! Niente, sarà da vuoto! No, mi sta laggando! Dove sei? Mi sta laggando! Mi sta possendo la vita! Mi sta possendo la vita! Dove sei? Qua davanti a te! Ok! Oddio, c'ho paura! No, veramente! C'ho paura del nuovo mucca! L'hai fatto te, vero? No! Ho sentito un'esplosione e mi sono messo in volo! Perché ho detto, cazzo qua ci muoio! Oddio, che cazzo era? Oddio, c'ho paura! Ci sono delle trappole in giro! Con ultimi pistrelli! Ci sono delle trappole in giro! Sai, attento! Dai, viè! Dove sei? Oh, è strada chiusa! Dobbiamo cambiare via! E dai! No! Sta possendo la vita! Di qua! Comunque Jetpack che fa laggare! C'è! C'è! I bimbi scalifaci! Oddio! 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 Ti agganciano e ti ammazzano! Oddio! 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 Mi ha acchiappato! Anche a me mi aveva acchiappato! Aspetta! Aspetta! Se ci sono gli uomini mucca vuol dire che c'è anche nelle vicinanze la stanza delle ceste! Cos'è?! Uno slime strano! Grigio! Tipo! Qual si chiama? Maze slime! Aia! Fanno malissimo! Fanno malissimo! Oddio! Mi fa ricordarmi il 1994! Perché? Il 1994 è l'altro custom map dei funghi! Ah, sì! Non trovo la stanza con le ceste! Niente! Questa strada chiusa! Anche io! E c'ho paura! Aiutami! Io sto volando alla cazzo per il dungeon! No! Niente! Cambiamo! Ah! Ah! Puttana! Puttana! Sono morto! Sono morto! Se mi prende lo slime! Ti salvo io! Ti ammazzo! Mamma mia che difficile è sto dungeon! Ho salvato! Ho salvato! Oh oh! Ah! Pim!